Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro webinar dal titolo Il diritto di accesso civico generalizzato a seguito del decreto legislativo 97 2016 e delle linee guida ANAC che nel corso, nel momento in cui stiamo facendo questo webinar sono in consultazione, nel senso che sono uscite da poco e come è normale adesso per tutte le linee guida c'è un processo di consultazione e quindi per questo dobbiamo comunque puntualizzare che non sono linee guida definitive ma sono quelle in consultazione, già però presentano molti elementi di interesse che possiamo inserire all'interno di questa presentazione Il diritto di accesso civico generalizzato, come dice il titolo è il nuovo accesso civico che il decreto legislativo 97 2016 introduce anche in Italia enfatizzandone la provenienza all'interno di un modello che negli stati più moderni con democrazie più evolute raffigurano un po' come quello che viene chiamato il freedom of information, cioè la libertà di accesso o nel suo acronico spesso è più noto come FOIA freedom of information act che sta anche a connotare uno specifico strumento normativo con cui viene in qualche maniera codificato noi lo abbiamo recepito secondo lo schema che andremo a vedere assai recentemente, quindi nel 2016, più o meno nel giugno 2016 poi c'era un periodo che serviva all'amministrazione per mettersi un po' organizzativamente in assetto si aspettavano molto linee guida ANEC proprio perché dovevano dare dei riferimenti un pochino più espliciti in particolare sulle cause di esclusione e quindi diciamo il 23 dicembre le amministrazioni devono rendersi operative rispetto a questo nuovo diritto di accesso civico ma noi facciamo un piccolo passo indietro per cercare di capire da dove viene questa norma cioè quali sono le sue origini sia soprattutto da un punto di vista culturale, legislativo insomma, freedom of information perché noi lo traduciamo con libertà di accesso? perché in realtà freedom of information, credo sappiate tutti significa libertà di informazione perché in effetti ai tempi in cui fu codificato per la prima volta stiamo parlando della Svezia e della Finlandia del XVIII secolo la libertà di informazione praticamente era messa allo stesso livello della libertà di accesso cioè erano le prime leggi che si occupavano di abolire la censura e che ci permettevano l'apertura di un reale dibattito pubblico ad esempio sulle decisioni che venivano prese dalle amministrazioni governative appunto di quei tempi, nella Svezia del XVIII secolo vigeva una monarchia tra virgolette illuminata e dico illuminata non solo perché era abbastanza avanzata rispetto alle altre monarchie ma proprio perché introduceva elementi di illuminismo l'illuminismo è alla base di queste normative di libertà di accesso noi traduciamo appunto libertà di accesso perché in effetti la libertà di informazione e la libertà di accesso sono due facce della stessa medaglia in questa ottica, nell'ottica del freedom of information perché? perché se si tratta di considerare appunto il rapporto di fiducia il patto e l'alleanza che ogni singolo cittadino instaura con il proprio governo e che ovviamente si basa su un potere di delega su una delega o un'utilità pubblica c'è il corrispettivo elemento dell'accountability quindi del rendere conto dell'operato del potere governativo della modalità con cui tale potere è stato esercitato per fare questo ai cittadini in generale effaticamente chiamati cittadini deve essere garantito l'accesso a tutte quelle informazioni che gli permettano di ricostruire il processo decisionale del decisore pubblico ad ogni livello quindi non può esistere una vera libertà di informazione se non c'è un analogo e corrispondente direi anche speculare libertà di accesso questa architettura si legge solamente effettivamente se ci sono queste due qui abbiamo messo la foto del Gianno Bifron perché in realtà stiamo parlando della stessa cosa andiamo avanti con le slide dove nasce la libertà di accesso? erroneamente si pensa che nasce negli Stati Uniti nel XX secolo come dicevo prima invece nasce in Svezia Svezia che allora comprendeva anche la Finlandia addirittura nel 1766 la prima legge sulla libertà di informazione che prevedeva anche un'amplissima libertà di accesso a tutte le informazioni detenute dalle amministrazioni governative in quel caso c'era una monarchia piuttosto illuminata il nome di questa legge come vedete in maniera piuttosto intraducibile non proverò nemmeno a dirlo fu introdotta in Svezia grazie a un finlandese che però era anche cittadino perché la Finlandia faceva parte della Svezia che si chiamava Anders Kidenius Anders Kidenius fu un pastore luterano ma di spiccata provenienza intellettuale dell'illuminismo che in quegli anni andava per la maggiore in Europa il problema dell'illuminismo in generale che fu una dottrina filosofica un influenzamento di tipo soprattutto culturale che non andò quasi mai al potere da nessuna parte in Europa al di là della rivoluzione francese che poi comunque ebbe un epilogo di diversa natura l'unico luogo dove veramente l'illuminismo ebbe il tempo di radicarsi all'interno delle istituzioni pubbliche fu proprio la Svezia cioè in Svezia si catalizzò per un caso quasi e per un periodo molto breve l'illuminismo al potere diremmo così che produsse questa normativa una normativa talmente avanzata che paragonarla a quella italiana di quella che c'è adesso probabilmente ancora vedremo tutto il suo carattere di innovatività da allora circa 90 paesi adesso sicuramente un po' di più hanno adottato leggi sulla libertà di accesso addirittura una cinquantina di questi paesi garantiscono la libertà di accesso come principio costituzionale c'è appunto da ricordare che in Svezia la prima norma di cui abbiamo parlato prevedeva che la libertà di accesso fosse un principio garantito in costituzione questo per evidenti ragioni poi ne parleremo più avanti nel corso del webinar la libertà di accesso è riconosciuta anche come diritto umano internazionalmente garantito e c'è addirittura un sistema codificato di rating cioè di misurazione secondo degli standard internazionali che tra l'altro ha visto l'Italia salire di parecchie posizioni proprio nell'ultimo rating dopo che era uscita appunto la nuova normativa c'è da dire peraltro che questi rating misurano soprattutto il fatto che esista una legge poi se questa legge funzioni o abbia un'efficacia nel senso che renda più trasparente l'operato dell'operatore pubblico e quindi dell'amministrazione pubblica questo non lo misurano quindi come è possibile nel 1766 parliamo di 10 anni prima della rivoluzione americana dove anche lì l'illuminismo in qualche maniera ebbe un suo ruolo addirittura ancora prima della rivoluzione francese non ha fatto molto parlare di questo perché si tratta effettivamente di una rivoluzione silenziosa nel senso che se voi leggete i documenti anche attuali che ricostruiscono in Svezia questo fenomeno questa innovazione normativa così importante vi accorgete che gli svedesi attribuiscono a questa normativa cioè la libertà di accesso introdotta come principio costituzionale nel 1766 il fatto che poi i paesi scandinavi si trovino sempre al top di tutte le classifiche internazionali per l'integrità della propria amministrazione pubblica e non è un caso insomma perché 250 anni di applicazione di una normativa molto seria evidentemente fatta anche molto bene poi dà questo tipo di risultati di derivazione illuminista perché alle basi c'era questa idea di Jean-Jacques Rousseau i funzionari pubblici dovrebbero operare sotto gli occhi dei cittadini l'azione pubblica dovrebbe essere condotta con un alto livello di franchezza apertura con candore cioè chi rappresenta l'azione di governo a tutti i livelli dal più piccolo funzionario dal funzionario pubblico diciamo che ha un relativo potere da esercitare fino al primo ministro e a tutti quanti i legislatori dovrebbero appunto operare in maniera completamente visibile agli occhi dei cittadini quindi il loro processo decisionale il processo decisionale dell'operatore pubblico e del decisore pubblico dovrebbe essere sempre visibile noi troviamo un'applicazione concreta di questo principio anche prima del Freedom of Information Act in Italia ed è contenuto per esempio l'articolo 9 del codice di comportamento dell'APA che è uscito nel 2013 quindi nemmeno tanto tempo fa questo articolo che si chiama appunto trasparenza e tracciabilità al secondo comma riporta proprio questo principio di natura illuminista la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere in tutti i casi garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità ecco la tracciabilità del processo decisionale è proprio questa attua diciamo questo principio illuminista sempre visibile il processo decisionale poi possiamo distinguere se è sempre visibile in tempo reale o se è sempre visibile a posteriori cioè una volta che il processo decisionale si sia manifestato per esempio in un atto qui diciamo la letteratura internazionale si divide insomma perché la trasparenza del processo decisionale in tempo reale è evidentemente un elemento molto difficile da supportare anche molto costoso allora per esempio questo articolo del codice di comportamento ci parla di un supporto documentale cioè laddove si scaricano le mie decisioni io posso accedere appunto ai documenti all'interno dei quali si scaricano queste decisioni quindi noi in qualche modo aderiamo alla linea di pensiero di una trasparenza del processo cosiddetta a posteriori cioè che viene subito che è l'apertura di quegli atti e di quei documenti che contengono appunto elementi del processo decisionale dell'operatore pubblico questo è un altro principio sempre di Jean-Jacques Rousseau i funzionali pubblici dovrebbero operare sotto gli occhi dei cittadini una società trasparente in cui nessuna condotta privata può essere tenuta al coperto dello sguardo dei cittadini un meccanismo cruciale per evitare intrighi destabilizzanti qui siamo addirittura agli estremi insomma una società completamente trasparente che poi evidentemente però ha anche i suoi rischi come spesso viene appunto sottolineato da chi invece propende per un rafforzamento della privacy c'è da notare però che nessuno nella normativa svedese fa mai riferimento alla trasparenza alla privacy dei cittadini che è assolutamente sacrosanta evidentemente piuttosto in qualche maniera le leggi sulla libertà di accesso almeno in Svezia precludono quella che è la privacy del decisore pubblico cioè nel momento in cui uno assume una carica pubblica in qualche modo la privacy viene un po' meno insomma viene fatta una scelta piuttosto drastica per cui l'operatore pubblico nel momento in cui assume la delega per decidere in conto e per conto della collettività non può operare se non sotto gli occhi dei cittadini questo è importante perché a volte si banalizza e si pensa che queste norme minano la privacy del cittadino comune non c'entra nulla anzi impongono agli stati di legiferare anche in materia di privacy in maniera molto efficace però a volte si strumentalizza pensando di tutelare la privacy dei cittadini che non c'entra nulla con la libertà di accesso la libertà di accesso è data informazione e documenti che riconducono e rendono tracciabile il processo decisionale di chi e solamente di chi assume la delega per decidere per conto della collettività quindi l'operatore pubblico ok questo lo vediamo dopo dal punto di vista concettuale quindi esistono due diversi livelli di trasparenza la libertà di accesso opera in particolare su uno di questi ormai è abbastanza acclarato che esistono due direzioni della trasparenza una trasparenza cosiddetta dell'evento in cui io riporto soprattutto l'articolo 9 del codice di comportamento che è la prima parte il primo coma in cui il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza quindi tutta la parte relativa anche al decreto legislativo 33 amministrazione trasparente cioè si pubblicano online una serie di dati di informazioni e di documenti che nella previsione del legislatore rendono possibile conoscere gli oggetti come dire i prodotti dall'amministrazione cioè dati informazioni in questo senso il concetto di openness è quello che emerge poi c'è tutto un altro livello della trasparenza di come l'operatore pubblico prende e assume le decisioni e si chiama trasparenza del processo in questo secondo caso emerge proprio la libertà di accesso come la tracciabilità dei processi decisionali quindi avremo anche una trasparenza come dire proattiva che viene associata all'openness cioè una trasparenza che in qualche maniera obbliga le amministrazioni a pubblicare online quindi senza aspettare che qualcuno ti chieda informazioni e poi una trasparenza cosiddetta reattiva che impone all'amministrazione non di pubblicare ma di archiviare dati informazioni e documenti nell'ottica della tracciabilità dei processi decisionali questo deve essere abbastanza chiaro perché altrimenti si confondono i due livelli e sono completamente diversi ovviamente perché per esempio nell'evoluzione poi di quello che è successo per esempio nei paesi scandinavi siccome si è data molta enfasi alla trasparenza del processo più che alla trasparenza dell'evento ovviamente che è assolutamente più recente come elemento nella trasparenza del processo in realtà l'operatore pubblico non è tanto bravo a pubblicare un dato non è che si specializza nella pubblicazione di un dato in realtà si specializza nell'archiviazione di un dato documento non informazione infatti la Svezia è diventata un enorme archivio pubblico un archivio di stato ogni amministrazione quasi quasi un palazzo dove amministra e un altro palazzo dove tiene l'archivio adesso con l'archivazione elettronica chiaramente è molto diverso ma voi dovete pensare che qualsiasi informazione entri diciamo all'interno del processo decisionale dell'operatore pubblico può essere fornita poi a chiunque ne faccia richiesta quindi noi potremmo avere se noi ragioniamo in termini di openness and disclosure cioè di trasparenza dell'evento di trasparenza del processo una opacità sostanziale quando nessun dato è disponibile e non si può ricostruire nessun tipo di processo decisionale perché è oscurato diciamo e potremmo avere un massimo livello di trasparenza quando è applicato il modello FOIA tipicamente scandinavo cioè quando insieme a una trasparenza proattiva quindi a dei documenti che devono essere pubblicati obbligatoriamente dall'amministrazione c'è anche la libertà di accesso di chiunque ad altri documenti ai cosiddetti dati ulteriori si direbbero e quando questo accesso è come dire sottoposto solamente a rare esclusioni rare e ben tassativamente indicate esclusioni ecco noi avremmo in quel momento avremmo una ragionevole idea di trasparenza applicata all'interno di quel contesto territoriale questo è importante perché ci permette di valutare anche la qualità e la previsione di impatto della normativa di cui stiamo trattando in Italia secondo anche questi criteri qui insomma questo non lo vediamo perché potete vederlo autonomamente io mi concentrerei sulla nuova legge quindi il 97 2016 che modifica l'accesso civico del 33 2013 e in qualche maniera si sovrappone anche all'accesso documentale cosiddetto accesso documentale del 241 legge 241 del 90 quindi l'accesso civico articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 33 del 2013 rimane circoscritto ai soli atti documenti e formazioni oggetto di obbligo di pubblicazione e questo è abbastanza pacifico non ha mai dato problemi questa parte costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obbligi di pubblicazione imposti dalla legge quindi un cittadino sempre enfatizzando il cittadino che poi difficilmente è il cittadino comunque non trova sul sito amministrazione trasparente un determinato dato che si dovrebbe aspettare di trovare perché un elemento degli obbligi di pubblicazione può fare accesso civico chiedendo all'amministrazione di farsi dare quel documento attraverso anche la pubblicazione come forma di rimedio per una mancata osservanza degli obbligi di pubblicazione questa norma rimane così com'è questo accesso civico rimane così com'è chiaramente noi non abbiamo moltissimi dati per esempio di valutazione se abbia funzionato o no questo accesso civico sugli obbligi di pubblicazione non ne sappiamo molto di come sono andati questi ormai tre anni di applicazione di questa materia certamente sarebbe stato molto ingenuo pensare che bastava avere uno strumento di questo tipo per pensare che le persone lo usassero lo utilizzassero su larga scala in realtà poi qui c'è un problema anche di informazione insomma quante persone sanno che possono utilizzare quello strumento e soprattutto a chi interessa queste erano tutte valutazioni che secondo me è il momento anche di fare insomma la legge del 2016 quella nuova di cui trattiamo oggi introduce un nuovo accesso civico generalizzato che è un po' parallelo a questo accesso civico X33 quindi non tanto dei dati obbligo di pubblicazione si può fare non tanto sui dati obbligo di pubblicazione si può fare accesso civico ma si può fare accesso civico anche su tutti gli altri dati cosiddetti dati ulteriori che non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione quindi questo si chiama accesso generalizzato in realtà le liquidane che non fanno riferimento non parlano di accesso civico parlano semplicemente di accesso generalizzato però nella norma è contenuto la terminologia accesso civico quindi noi comunque possiamo pensare di dire una cosa tipo accesso civico generalizzato questo accesso civico generalizzato è autonomo e indipendente dagli obbligo di pubblicazione perché come dicevo prima non è uno spirito di essere proattivi ma è uno spirito di essere reattivi a una richiesta quindi non è tanto la pubblicazione di un dato ma è quanto essere pronti a fornire informazioni su come per esempio è stata presa una decisione quindi il diritto di accesso civico accesso generalizzato è espressione come dice anche l'iniquità di una libertà che incontra quali unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati dall'articolo 5 bis che poi vedremo e il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni questo pezzo riprende le esclusioni della 241 quindi l'accesso civico generalizzato è diverso dall'accesso civico classico a cui siamo stati abituati a pensare quando è stata pubblicata la legge nel 2013 ma è cosa anche diversa dalla cosiddetto accesso documentale che è quello forse più noto quello che si fa legge 241 del 90 che è una forma di accesso adesso piuttosto consolidata perché ormai siamo alle soglie del 26esimo anno di esercizio di questo diritto che hanno chiaramente però delle finalità diverse la finalità dell'accesso documentale cioè il classico accesso agli atti è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative positive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate quindi l'accesso agli atti deve essere un accesso qualificato e motivato non tutti possono accedere agli atti ma solamente chi dimostra di avere un interesse diretto quindi la 241 esclude perentoriamente tra l'altro l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato questo è un elemento molto importante la 241 non serve non ha come finalità il controllo del processo decisionale dell'operatore pubblico non serve assolutamente a quello serve a difendersi in giudizio sostanzialmente serve quindi una cosa molto diversa infatti si mette anche in discussione l'idea che quello sia un vero e proprio diritto di accesso perché nell'ottica della libertà di accesso almeno quella storicamente rilevante l'accesso non c'entra nulla questo tipo di motivazione cioè si accede proprio per sottoporre l'amministrazione a un controllo altrimenti siamo assolutamente estranei a questo tipo di al modello libertà di accesso infatti in Italia se ne è discusso tanto e nel 2016 si è aggiunti a questa nuova formulazione di questo nuovo accesso civil generalizzato che invece sta proprio nell'ottica di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche come vedete in questa nuova formulazione finalmente si introduce l'idea che questo accesso possa servire a controllare l'operato degli amministratori pubblici proprio nello schema dei principi dell'illuminismo che vi ho precedentemente illustrato perché l'accesso generalizzato è invece uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa cioè questo accesso serve a farsi un'opinione diciamo così ecco perché questo accesso è anche come dire propedeutico alla libertà di informazione gli svedesi lo capirono 250 anni fa cioè come facciamo a far evolvere per esempio un giornalismo fondato non tanto sui commenti come quello nostro italiano quanto su dati e informazioni quindi un giornalismo di inchiesta un giornalismo che si basi su componenti oggettive che non sia semplicemente la discussione su opinioni e commenti si può fare solamente dando accesso ai cittadini alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione questo è l'unico sistema è per questo che libertà di informazione e libertà di accesso vanno di pari passo perché attraverso la libertà di accesso i cittadini possono formarsi un'opinione e possono partecipare efficacemente al cosiddetto dibattito pubblico quindi come vedete situazioni molto diverse l'accesso civico generalizzato è diverso dall'accesso civico 33 2013 ed è chiaramente molto diverso dall'accesso agli atti ex legge 241 90 il problema è che questo nuovo accesso civico generalizzato è stato come dire come modello procedurale è stato abbastanza come dire inquadrato come procedure diciamo pensate per esempio all'elemento dei contro interessati cioè si è utilizzata una struttura ben nota che è quella della 241 del 90 anche per questo nuovo accesso civico generalizzato cioè si sovrappongono quasi in maniera speculare le modalità di accesso pur rimanendo due forme di accesso molto diverse che hanno scopi completamente diversi addirittura contrastanti in alcuni casi il nuovo accesso civico generalizzato quindi è diritto a titolarità diffusa potendo essere attivato da chiunque vedete la differenza con la 241 qui è abbastanza evidente la 241 non tutti possono accedere agli atti ma solo che dimostri di avere un interesse diretto e quindi una qualificazione dell'interesse è sicuramente un elemento fondamentale non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente questo è esplicitamente sancito talcom 3 a ciò si aggiunge un ulteriore elemento sia che l'istanza non richiede motivazione cioè non bisogna spiegare a che cosa mi serve accedere in altri termini tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini cioè a chiunque indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive un accesso a dati documenti e informazioni detenute da pubblica amministrazione questo è lo schema chiaramente l'architettura vedete come si enfatizza molto questa idea del chiunque può accedere non deve più dimostrare di avere un interesse non deve nemmeno dare una motivazione ma vediamo un po' operativamente perché poi uno dei grossi problemi che la legge aveva era abbastanza di essere piuttosto non intellegibile a volte e quindi si aspettava l'esplicitarsi delle linee guidanac perché potevano dare delle informazioni di carattere operativo sicuramente molto più pertinenti molto più effettivamente in alcuni casi questo è avvenuto io vi propongo alcune domande risposte come se fossero delle frequently asked questions vi propongo il caso che potrebbe essere una domanda che potrebbe emergere da qualsiasi dibattito su questo tema dopodiché proviamo a dare anche una risposta quindi il caso è questo a cosa si può accedere tramite il nuovo accesso civico generalizzato è importante questo perché come dicevo prima la normativa si sovrappone alla 241 del 90 le linee guidanac definiscono come l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione quindi l'abbiamo detto più volte durante il corso di questo webinar stiamo parlando dei famosi dati ulteriori ossia per i quali non è sussista uno specifico obbligo di pubblicazione il primo riferimento non è solamente ai documenti amministrativi ma anche ai dati che chiaramente sono una cosa molto diversa dai documenti amministrativi che cos'è un dato il dato è un dato conoscitivo indipendentemente come tale indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione adesso sui dati c'è tutta una letteratura piuttosto consolidata quindi si può fare riferimento a quello c'è il CAD su cui si può sicuramente fare riferimento e qui sottolineo solo un elemento che appunto nella nuova normativa si parla di dati e documenti quindi non solo di documenti ma anche di oggetti di dati grezzi seconda domanda sarebbe opportuno sotto l'aspetto pratico trasmettere copia della richiesta di accesso civico e dei successivi provvedimenti adottati dall'ufficio competente al responsabile di prevenzione corruzione e trasparenza cioè l'accesso civico generalizzato può essere fatto anche al singolo ufficio detentore dei dati allora ci si chiede sarebbe utile che lo sappia anche il responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza che è stato che ora si qualifica nello stesso soggetto diciamo in questo senso non tanto l'ineguida ma un ragionamento che abbiamo fatto insieme ad altri colleghi e che voi trovate anche su un blog spazio etico certamente sì per una serie di motivi perché sono sicuramente il fatto che per esempio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è anche destinatario del riesame delle istanze di riesame cioè se un ufficio nega l'accesso il cittadino può ricorrere al responsabile della prevenzione della corruzione tra le varie figure a cui può ricorrere e poi anche perché il responsabile della prevenzione della corruzione essendo colui che coordina e organizza la strategia anticorruzione in qualche modo deve tenere sott'occhio anche il processo di accesso agli atti accesso documentale quindi accesso civico civico normale civico generalizzato e quindi dovendo tenere sotto controllo quel processo bisogna di sapere come vengono assunte quelle decisioni se vengono rispettate la normativa e eventualmente riqualificare quel processo quindi il responsabile della prevenzione della corruzione non solo deve essere informato del fatto che esiste un'istanza di accesso civico generalizzato ma deve anche essere informato circa l'esito di questa istanza come si può fare? ma delle soluzioni organizzative pratiche abbastanza di buon senso sono quelle di garantire una copia della richiesta di accesso e una copia del provvedimento adottato questo si può fare in vari modi sarebbe molto opportuno in questo senso mettere in piedi un sistema informativo che permetta quasi automaticamente di fare questo tipo di attività un'altra soluzione è la creazione di una banca dati delle richieste pervenute e quindi una registrazione man mano che queste istanze vengono presentate anche del loro esito però diciamo noi ci siamo un po' spinti più in avanti che cosa si può fare per questo anche perché l'ANAC nelle linee guida invita le amministrazioni ad adottare un nuovo regolamento rispetto all'accesso che specifichi i tre livelli di accesso possibili noi infatti pensavamo anche prima delle linee guida per la verità che l'amministrazione dovessero adottare quella che noi chiamiamo una carta dei servizi anche sia ad uso esterno per i cittadini per orientarsi ovviamente ma sia anche e soprattutto per uso interno cosa deve contenere questa carta dei servizi abbiamo selezionato circa otto punti intanto deve spiegare il più possibile chiaramente con i limiti di questa normativa quali sono le informazioni i dati e i documenti che l'ente ha a disposizione dovrebbe fare l'ente l'amministrazione un'attività ricognitiva che secondo me è quello che veramente può fare da subito o ha già cominciato a fare per verificare quali sono i famosi dati ulteriori cioè tutti i dati che non sono obbligo di pubblicazione ma che l'amministrazione detiene attraverso questa attività ricognitiva può fare può stilare un elenco di dati informazioni e documenti già immediatamente accessibili o in qualche modo detenuti dall'amministrazione stessa quindi questa è la prima cosa è un'attività ricognitiva quali dati ho? quali dati ho a disposizione quali posso mettere a disposizione dei cittadini quindi sarebbe anche il caso a volte di anticipare quel processo decisionale anticipando anche ma se mi arriva un'istanza di accesso civico rispetto a questi dati e queste informazioni come penso come mi organizzo spiegate come penso di rispondere che tipo di valutazione posso fare sono dati che sono soggetti a cause di esclusione poi vedremo quali sono quindi questa è la prima domanda la seconda domanda che ci dovremmo porre è quali sono le diverse modalità di accesso e a quali accessi si ha diritto avete visto adesso che ce ne sono almeno tre di accessi e questo in qualche maniera complica la vita dell'ipotetico cittadino che vuole presentare un'istanza quindi in qualche modo la carta dei servizi e poi ancora di più il modulo attraverso cui si farà accesso civico o qualsiasi altro accesso dovrà contenere delle spiegazioni piuttosto particolareggiate e delle linee di orientamento attraverso cui i cittadini possano effettivamente orientarsi all'interno di questa normativa quindi questo significa all'interno della carta dei servizi che l'amministrazione o l'ente dovrà svolgere un'intensa attività noi diciamo di traduzione della normativa perché la normativa è piuttosto ingarbugliata insomma terzo elemento chi sono i titolari della funzione di ricezione dell'istanza di accesso e a quali soggetti si può richiedere un determinato dato documento o informazione come è noto il decreto legislativo 97-2016 diversamente dall'accesso civico classico dove si poteva fare istanza solo al responsabile della trasparenza in realtà introduce almeno altri tre punti di accesso che in particolar modo due sono evidentemente di interesse che sono l'URP l'Ufficio di relazioni con il pubblico e anche l'ufficio che detiene nel dato o l'informazione quindi questo significa che si aprirà un pochino questa le istanze possono pervenire un po' a tutti i livelli dell'amministrazione anche questo complica un po' la vita perché in questa carta di servizio quindi sarà importante fare tutta un'attività di riqualificazione organizzativa volta appunto all'identificazione e definizione di chiare responsabilità in capo agli uffici così da non creare troppa confusione e anche orientare i cittadini a formulare distanza all'ufficio giusto cioè all'ufficio detentore di dati o addirittura all'URP questo chiaramente richiede un'attività di riqualificazione organizzativa evidentemente quarto elemento quali sono i canali interni ed esterni per avviare un ricorso quindi spiegare ai cittadini come e a chi si può ricorrere se la decisione di accedere oppure no in qualche maniera ci trova un po' in disaccordo chiaramente questo richiede un'analisi normativa perché la normativa spiega abbastanza dettagliatamente a chi si può fare ricorso tra l'altro a seconda della qualificazione e della tipologia di amministrazione ci sono forme di ricorso diverse vediamo le altre quattro modalità di orientamento che si possono fornire all'interno di una carta di servizi elemento fondamentale ovviamente sono le cause di esclusione cioè a quali informazioni dati e documenti è possibile applicare preventivamente le cause le clausole le cause di esclusione cioè sarebbe già il caso di anticipare le istanze dicendo attenzione che per questi dati io non posso fornire alcun tipo di accesso se lo faccio sapere prima le persone magari si organizzano per esempio se qualcuno ha idea di fare un accesso civico generalizzato a un dato un documento che si sa già che non potrà essere dato fornito allora è abbastanza inutile fare quel tipo di accesso altro elemento quando pubblicare proattivamente vi ricordate la differenza tra la trasparenza proattiva e reattiva in alcuni casi oltre a dare accesso a quel dato e a quelle informazioni sarebbe il caso poi di pubblicarle all'interno della sezione dati ulteriori di amministrazione trasparente quando diciamo in un paio di occasioni quando per esempio rispetto ad alcune informazioni dati e documenti sono state avviate molteplici istanze di accesso ad esempio anche solo più di una perché? perché vuol dire che quel dato quell'informazione quel documento sono abbastanza importanti sono documenti e informazioni che le persone ci stanno chiedendo in massa o comunque ci stanno chiedendo più volte quindi in quel caso forse conviene reagire in maniera proattiva e decidere di pubblicare all'interno della sezione dati ulteriori di amministrazione trasparente questo è un caso poi c'è anche un altro caso in cui forse bisogna reagire in maniera proattiva si tratta di alcune informazioni dati e documenti che per la loro particolare rilevanza assumono in termini di potenziale vantaggio svantaggio informativo cioè chi ha accesso a quella informazione assume anche un vantaggio per esempio competitivo o di natura informativa in quei casi va valutato che bisogna mettere tutti sullo stesso livello e quindi garantire la massima equidistanza degli interessi anche in quel caso forse sarebbe il caso di pubblicare quel dato o quell'informazione sulla sezione dati ulteriore ultimo elemento da inserire in una carta di servizi quale coordinamento interno è necessario alla fine di unificare l'accesso stiamo pensando di mettere in piedi uno sportello unico sarebbe forse l'opzione migliore questo richiede un'attività di scambio di informazioni attraverso ovviamente specifici protocolli e dipende molto anche dalla complessità organizzativa di quell'amministrazione ovviamente però è sicuramente auspicabile che ci sia una forma di coordinamento interno operativo tra i vari uffici e in qualche maniera questo dovrebbe garantire una standardizzazione nella modalità di gestione delle stanze perché uno degli elementi più controversi di questa norma è proprio quella che introduce un'ampia discrezionalità in capo al singolo funzionario pubblico di escludere o non escludere l'accesso perché le cause di esclusione come vedremo sono piuttosto vaghe e non è che l'ANAC abbia dato un così grande contributo per specificarlo considerate la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato che si aggiunge alle altre tipologie di accesso sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione anche nella forma di un regolamento sull'accesso di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso vedete questo lo dicono proprio le linee guida a conferma di un ragionamento che stavamo facendo anche se si limitano ad affermare questo la cosa interessante delle linee guida ANAC che si spingono a delineare ad architettare un possibile modello per accedere questo modello dovrebbe avere una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico quello semplice quello degli obblighi di pubblicazione una terza sessione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato quindi anche secondo l'ANAC questi modelli dovrebbero già contenere questo tipo di informazione ok quindi a rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative si sta pensando a un ufficio per la trasparenza diciamocelo chiaramente che dovrebbe far capo al responsabile della prevenzione della corruzione perché ormai le figure sono in via di unificazione anche perché questo processo diventerebbe estremamente complesso da organizzare questo lo dicono espressamente anche le linee guida ANAC se con il decreto legislativo 33 si è iniziata a introdurre come dire non solo un obbligo di pubblicazione ma soprattutto un obbligo di coordinamento interno con tutte quelle figure intermedie detentori dei dati soggetti che pubblicavano responsabili della pubblicazione adesso sembra ancora più evidente che i singoli funzionari non possono essere lasciati soli per tantissime ragioni perché sono sottoposti a un processo decisionale molto complesso e andrebbero comunque supportati vediamo un altro caso è possibile ricevere istanze di accesso civico indicante generici dati o informazioni o ancora documenti in possesso della pubblica amministrazione o che si presume siano nella disponibilità dell'amministrazione cioè si possono accettare istanze di accesso civico un pochino troppo generiche in cui non si indica nello specifico il dato o l'informazione che si vuole ottenere qui le linee guidana che danno un'interpretazione del testo normativo il testo normativo dice espressamente che l'istanza di accesso civico identifica i dati le informazioni e i documenti richiesti quindi con il termine identifica dovrebbe chiarire che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta semplicemente a scoprire di quali informazioni l'amministrazione dispone ecco questo è un lavoro che l'amministrazione dovrebbe fare a monte insomma cioè cercare di capire appunto quali sono i miei dati ulteriori e eventualmente quali sono i dati a cui si può accedere e quali dati non si può accedere questo però non può essere delegato a un'istanza che proviene appunto dall'esterno le richieste non devono nemmeno essere troppo generiche ma devono consentire abbastanza facilmente l'individuazione del dato del documento dell'informazione insomma questo è un po' quello che dicono le linee guida sulla genericità dei dati e delle informazioni ancora un altro caso è come trattare una richiesta di accesso civico ad un numero irragionevole di informazioni dati o documenti questa è abbastanza come dire è una domanda piuttosto importante perché il dilemma è questo insomma ma per assolvere o per gestire un'istanza di accesso civico quanto tempo posso dedicare non è che i dipendenti pubblici debbano passare il loro tempo appunto a fornire informazioni il loro tempo lavorativo deve essere insomma in qualche maniera assicurato per il servizio che svolgono insomma quindi ci si pone il problema ma se l'istanza di accesso civico proveniente dall'esterno indica un numero irragionevole di informazioni come mi devo comportare quindi le linee guida ANAC danno questo tipo di risposta nei casi particolari appunto perché ovviamente se questa è la regola diciamo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella legge se queste domande di accesso sono così manifestamente irragionevoli rispetto al numero di documenti richiesti e impongono un carico di lavoro tale da paralizzare in modo sostanziale il buon funzionamento dell'amministrazione allora la stessa amministrazione può decidere di ponderare il famoso dilemma tra l'interesse dell'accesso da parte del pubblico e il carico di lavoro che ne deriverebbe qual è l'elemento discriminante è la salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione cioè se l'accesso preclude il rispetto e la salvaguardia del principio del buon andamento e allora bisogna che da una parte si ceda quindi il principio del buon andamento è superiore al principio dell'accesso ok nei casi di accesso civico a informazioni che non sono detenute dall'amministrazione la PA ha l'obbligo di formare o raccogliere informazioni che non sono in suo possesso se io come cittadino voglio accedere attraverso un'istanza delle informazioni che non sono detenute dall'amministrazione o sono parzialmente detenute dall'amministrazione come si deve comportare l'amministrazione deve surrogare anche altre amministrazioni cercare di trovare altre informazioni che non sono detenute in un altro modo per quanto concerne la richiesta di informazioni per informazioni si devono considerare la rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni resta escluso e questo mi sembra abbastanza ovvio che l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso cioè non si può pensare che un'amministrazione possa andare a recuperare o a produrre quelle informazioni che non detiene o che non produce per scopi propri sostanzialmente pertanto l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato rielabora i dati ai propri fini ovviamente e quello diventa un elemento informativo a cui si può accedere ma non può elaborare dati perché un utente o un cittadino glielo abbia richiesto attraverso l'istanza di accesso civico vedete queste sono tutte indicazioni piuttosto operative che fa l'ANAC per la gestione del processo dell'istanza di accesso civico non dovendo più richiedere la motivazione del titolo per cui un soggetto procede all'accesso in che modo i controinteressati possono motivare le opposizioni e quali sono gli strumenti offerti dalla pubblica amministrazione per eventualmente opporsi legittimamente all'accesso cioè in quali casi è possibile rifiutare legittimamente l'accesso ovviamente questa è la domanda delle domande diciamo in qualche maniera l'accesso civico a differenza dell'accesso agli atti non viene mai negato per assenza di motivazione o titolo questo l'abbiamo già detto in vario modo può essere negato solamente per tutelare particolari interessi pubblici o privati quindi l'accesso non può essere negato perché non siamo non abbiamo un interesse diretto ma perché quella informazione che stiamo chiedendo può ledere interessi pubblici o privati questo è importante anche quali sono i casi di esclusione quindi ecco li vedete catalogati abbiamo tre tipologie di cause di esclusione la cause di esclusione che la norma definisce tutela di interessi pubblici e sono la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico la sicurezza nazionale la difesa le questioni militari le relazioni internazionali la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento in regolare svolgimento di attività ispettive queste sono le cause di esclusione per tutela di interessi pubblici poi abbiamo delle cause di esclusione per tutela di interessi privati sono tre sostanzialmente la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia quindi la privacy la libertà e la segredezza della corrispondenza anche perché noi in Italia abbiamo un principio costituzionale su questo punto gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ivi compresa la proprietà intellettuale il diritto datore e i segreti commerciali quindi queste sono cause di esclusione per tutelare interessi privati esiste poi un'altra categoria di cause di esclusioni ampia diciamo perché ripercorre un po' quello che è l'articolo 24,1 della 241 del 90 quindi l'accesso è escluso anche nei casi di segreto di stato divieti di accesso di divulgazione previsti dalla legge per esempio una delle cause di esclusione più nota è quella sulla esclusione dell'accesso agli atti quando si tratta di segnalazioni e quindi in materia di whistleblowing però ce ne sono anche altre ovviamente ecco a questo punto avendo verificato quante e quali sono queste cause di esclusioni viene in mente un pensiero diciamo di questo autore che in qualche maniera ha studiato un po' tutte le libertà di accesso più o meno del mondo occidentale ha fatto uno studio comparativo insomma che dice appunto tutto si gioca sulle clausole di eccezione cioè un freedom of information la qualità e l'impatto che se ne può prevedere si gioca quasi esclusivamente sulle cause di esclusione puoi architettare un ottimo foglia ma poi se le clausole di eccezione coprono molti documenti oppure la cosa forse più interessante è questa non specificano precisi termini per l'eccezione stesse allora è probabile che l'implementazione non avrà alcun impatto sul pubblico e sull'azione di governo cioè le cause di esclusione sono un po' la cartina torna solo la prova del 9 delle libertà di accesso come vengono congegnate le cause di esclusione ti fanno capire anche il grado e di prevedere un po' l'impatto che potrebbero avere queste normative per come sono state fatte in Italia non è tanto la quantità delle cause di esclusione quanto le modalità con cui sono state redatte sono alla fine dei criteri piuttosto vaghi attraverso cui il dipendente pubblico dovrà formarsi una propria idea una propria opinione dovrà fare quello che le linee guidana chiamano un bilanciamento tra il diritto di accesso e la tutela di interessi pubblici e privati in realtà di cause di esclusione tassative ce ne sono solamente due c'è il segreto di Stato adesso poi le linee guidana che dicono quali sono le cause di esclusione esclusive per tutte le altre si parla non tanto di esclusività ma quanto di bilanciare volta per volta quindi caso per caso gli interessi in gioco da una parte c'è sempre l'interesse ad accedere dall'altra parte ci sono tutti quei interessi di cui abbiamo parlato adesso che sono sostanzialmente questi qua pubblici o privati che essi siano se l'ufficio non risponde perché ritiene di non aver in archivio più atti e documenti relativi all'istanza il soggetto come può tutelarsi in realtà il caso è mal posto direbbe qualcuno perché in realtà l'ufficio responsabile del procedimento di accesso civico cioè chi sta gestendo quell'istanza non può non rispondere perché l'accesso civico non ammette il silenzio di niego quindi la richiesta di accesso civico viene inviata dal cittadino nella presunzione che l'amministrazione detenga quel dato se quel dato non è detenuto da quell'ufficio la richiesta deve essere rigettata sempre entro 30 giorni della presentazione al rigetto si può fare istanza di riesame davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di opposizione del controinteressato il procedimento di accesso civico deve concludersi ugualmente entro i 30 giorni come vedete introduciamo ancora una volta come dire il controinteressato per farvi anche vedere come l'impianto di questo nuovo accesso civico generalizzato in effetti è molto simile all'impianto della 241 del 90 quasi si sovrappone da un punto di vista metodologico anche se sono due campi completamente diversi la presenza del controinteressato è una presenza importante perché è in grado il controinteressato di fornire una ragionevole preoccupazione rispetto alla possibilità che un cittadino abbia di accedere a un dato oppure no questo è l'elemento del controinteressato è uno degli elementi chiaramente più controversi ora vi lascio con le slide una lettura diciamo sul possibile impatto sul piano dell'esposizione a rischio corruttivo e vi saluto dicendo che intanto dobbiamo aspettare che le linee guida escano dalla fase di consultazione anche se in qualche maniera nelle precedenti consultazioni non c'è stata una netta differenza tra quello che è entrato e quello uscito dalla consultazione quello che sarà importante verificare sono le prime applicazioni ovviamente perché questo sarà molto interessante vedere come le amministrazioni rispondono alle istanze di accesso civico quindi è importante tenere sotto controllo il fenomeno vedere anche soprattutto quante ne arrivano perché poi il problema è anche dell'efficacia di una norma e anche da quanto il cittadino la possa utilizzare sostanzialmente rispetto a questo appunto sarà interessante osservare le dinamiche per il momento finiamo qui la presentazione vi ringrazio per la disponibilità e vi saluto un po' Grazie.